Le voci di una presunta storia d'amore tra Marco Mingoni e Mahmood hanno riempito giornali di gossip per molto tempo. Da una collaborazione artistica tra i due sarebbe poi nato qualcosa di serio anche dal punto di vista sentimentale, ma la riservatezza di entrambi non ha fatto mai emergere nulla alla luce del sole. Queste illazioni sul loro conto sarebbero state alimentate da dichiarazioni dei diretti interessati quando sin dal 2019 avevano dichiarato i settimanali chi è oggi di vivere un'importante storia d'amore. Evidentemente non è mai emesso nulla per una sorta di patto di riservatezza tra i due. Tuttavia pare proprio che in occasione dell'ultimo festival di Sanremo la coppia si sarebbe clamorosamente tradita. I due si sarebbero incontrati nel backstage del teatro Ariston, ma all'improvviso avrebbero poi cambiato strada. Questo strano siparietto tra Mingoni e Mahmood ha dato subito nell'occhio e ha fatto intuire come probabilmente la loro presunta relazione sia ormai finita. In effetti il filmato che li ritrae nel backstage è molto eloquente, entrambi incrociano i rispettivi sguardi per meno di un secondo, poi si voltano completamente dall'altra parte nel chiaro tentativo di evitarsi. Evidentemente tra i due ci sono delle questioni in sospeso ed è probabile che la loro presunta love story non sia finita nel migliore dei modi. I loro fan sperano che siano gli stessi diretti interessati a rivelare la verità un giorno. È davvero un peccato che abbiano voluto tenere segreto una bella storia d'amore. L'interesse morboso per questa presunta love story si spiega con il fatto che parliamo di due grandi artisti italiani. Se avessero deciso di uscire allo scoperto avrebbero entusiasmato non poco tutti i loro fan nei giornali di gossip.